Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus nel Piacentino, una persona presenta sintomi. Complessivamente in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore le positività sono state 37, 20 persone sono asintomatiche, 5 dei nuovi contagiati rientravano dall'estero. A tal proposito, come previsto dall'ordinanza emanata dal Ministero della Salute, anche l'ASL di Piacenza si organizza per prendere in carico tutti coloro che rientrano in Emilia-Romagna, da Spagna, Grecia, Malta o Croazia, stati che mostrano un aumento dei casi di covid. I cittadini rientrati da questi paesi hanno l'obbligo di segnalarsi immediatamente ai dipartimenti di sanità pubblica nelle rispettive ASL di residenza. Per quel che riguarda Piacenza e provincia devono quindi comunicare al Servizio di Igiene Pubblica il loro rientro, utilizzando l'indirizzo mail comunicazione-transito chiocciolausl.pc.it, riportando nella mail nome, cognome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico, luogo e date del soggiorno all'estero. Contemporaneamente devono provvedere a prenotare il tampone telefonando al CUPTEL numero verde 800 651 941. Come previsto invece dall'ordinanza regionale per le badanti, anche le assistenti familiari al rientro da Romania, Bulgaria, altri stati extra Unione Europea o extra Schengen hanno l'obbligo di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica ai fini dell'auto isolamento di 14 giorni. Anche in questo caso la segnalazione va fatta utilizzando l'indirizzo mail comunicazione-transito chiocciolausl.pc.it. Una volta ricevuta la comunicazione dall'assistente familiare, il personale del Dipartimento contatterà la persona interessata e pianificherà l'esecuzione del primo tampone all'arrivo e del secondo tampone tra il settimo e il decimo giorno, comunque entro la fine del periodo di isolamento. Il Dipartimento verificherà inoltre le modalità di ingresso in Italia e l'idoneità dell'alloggio dell'assistente familiare per consentire un adeguato isolamento. Un provvedimento a loro protezione ha dichiarato il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, così come degli anziani e delle persone non autonome cui prestano aiuto con il loro lavoro. Vogliamo evitare ritorni del virus che rendano di nuovo necessarie misure restrittive. Serve il rispetto delle regole di sicurezza e l'impegno di tutti.